Ciao ragazzi, benvenuti al mio nuovo video di YouTube. Se vi piace date un like e iscrivetevi. Oggi proviamo a fare l'occhio bello. È per bambini principianti come me. E state un po' più attenti perché si fa con la destra e sinistra. Non esisterà lento o veloce, quindi diamoci da fare. Cominciamo. Ora proviamo veloce. Non sono sicuro che mi uscirà, però farò qualche sbaglio, credo. Grazie ragazzi che avete visto il mio video. E non dimenticate di darmi un like o iscrivetevi o schiacciate la campanella. Ah, e prima, quando stavo dicendo che lo facevo veloce, mi ero sbagliato. Non ho fatto nessun sbaglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!